questo è il porta navigatore di mario allora mario come vedi c'è le misure che mi hai dato per cui è diventato un po più strettino ma come ti ho fatto vedere dalle immagini si possono anche allargare di più avevi paura di questo settore c'è questo qua questo top in gomma dove ci sono delle molle per cui quando te inserisce il navigatore spinge e tiene a impressione il tutto il navigatore è preso da queste due orecchiette qui e da questa qua quando tu lo sollevi da questa parte indietro ci sono una leva c'è questa leva qua con due molle una più grande una più piccola perché compensa non solamente la forza basta mettere le dita pressionare e come vedi c'è l'apertura se lo vuoi regolare per il cellulare basta regolare sempre questa bassetta qui togliendo le tre viti con i dadi qua dietro ecco questo è tutto e spero che ti possa servire a qualcosa